Seconda giornata mondiale Sudafrica SK, Uruguay contro Honduras, Gallo contro Esposito, Maraniello, Gallo, guardate che campione, uh che giocate, Gianni Esposito contro piede, si apre verso Marrone sul secondo palo, Maricciolino non segue il movimento del calcetto. Benny Pagnano, Maraniello, verso Coscio, Cascio, Cascio, Banana si lamenta come al solito, si apre verso Maraniello al volo, che peccato un po' troppo arretrato il passaggio, Marrone, Esposito, grande giocata, ma Benny Pagnano c'è sempre. Andiamo subito, Roberto Paranello, si apre verso Gallo che di prima è verso Cascio, ma Paiella non segue bene l'azione, Marrone, grande giocata da solo, no, si si è imbangiato. Giornata e ponteggio in favore? 4 pari, bellissima partita, doppietta del panettiere, Gianni Esposito, oggi abbiamo anche conosciuto il fratello Junior che gioca nella Costa d'Avorio, grande giocatore, bravissimo. Si vuol dire che forse il migliore in campo è Gianni il panettiere, vero ora? Oh, banana, detto da Antonio. Bomba di Maraniello, il panettiere ci mette anche il suo popò davanti. Marco, promessa del calcio, grande. Cosa combina? Prima. C'è la parola, buona dichiarazione? I.F. I.F. Non dico. Cottardo. Spinta di Faiella verso Ricciolino, l'arbitro dà il vantaggio. Guardate Ricciolino, guarda il pallone ha preso. Guardate la camera che colpisce la palla, guardate. Oh, oh. Il panettiere, la punta non la vede. Grande parata di Beni Pagnano. Conferma di essere uno dei migliori forti del torneo. Io darei un 7,5 al fisico di Sergio Stanziano. La sua postura lineare e corretta. Da esempio ortopedico, guardatelo. Ora, sai che in camera la maglietta diventa arancione? Arancione. Contropiede. Guardate. Tornate. Beh. Torna. Bumba. Parata di D'Antonio. Ci do il collegamento. Ringraziamo i sponsor. Un saluto da Marcia e tutti i ragazzi di Lo Stato di Parasco. Ciao ragazzi.